Non sempre abbiamo la capacità di controllare i nostri pensieri e con non sempre intendo dire che a volte il nostro cervello può funzionare in modi davvero ironici. Ed ecco perché come promesso ho fatto questo terzo e ultimo video di questo mini corso di sopravvivenza psicologica al coronavirus. Parleremo di soluzioni concrete per spezzare i circoli di pensieri negativi o ansiogeni. In psicologia ci si riferisce a questo fenomeno come ruminazione mentale ed è attribuito a quel fenomeno per cui un certo episodio o ipotesi negativa continuano a presentarsi alla nostra coscienza sotto forma di pensieri continuamente e contro la nostra volontà. Questo è molto comune nei disturbi depressivi o di ansia ma si può dire che tutti quanti sperimentiamo seppur con gradi diversi queste manifestazioni. Accogli, non reprimere, respingere un contenuto della mente non è assolutamente una buona strategia per fare in modo che questo contenuto non si ripresenti. Questo perché se il nostro cervello ci attenziona a qualcosa è perché evidentemente la nostra coscienza o il nostro inconscio lo ritengono davvero importante. Piccola precisazione, accogliere non vuol dire accettare. Quando vediamo un film lo accogliamo e quindi prendiamo tutto quello che passa sullo schermo come un racconto o una narrazione. Ma ti devi controllare quando vedi un film perché se pensassi che tutto quello che avviene sullo schermo stia succedendo per davvero e in quel momento sarebbe il caos. I pensieri sono reali ma non sono la realtà. Consiglio numero 2. Trascrivi i tuoi pensieri. Scrivere su carta ciò che prima aveva spazio solo nella nostra testa è il primo passo per renderlo controllabile. Questo perché gli stiamo dando una dimensione fisica e tangibile, uno spazio concreto nella nostra esistenza. Mentre quando è solo nella nostra testa un pensiero è come se fosse un'ombra proiettata. Metterlo per iscritto invece significa rendersi conto che quell'ombra era generata da un oggetto la cui grandezza era molto inferiore rispetto alla sua proiezione. Inoltre scrivere non solo il pensiero ricorrente ma anche l'impatto che crediamo avrà sul nostro futuro ci aiuta a renderci coscienti di quali aspettative abbiamo della nostra vita. Se prefigurerò solo scenari negativi, due domande sul mio stato di benessere psicologico me le dovrò pur fare. Per renderti più facile il tutto nella descrizione del video ti ho lasciato un pdf scaricabile gratuitamente per poter trascrivere tutto ciò che abbiamo appena detto. Terzo ed ultimo consiglio. Fai attività sportiva o pratica la meditazione. Molto spesso infatti questi pensieri sono acuiti da uno stato di stress diffuso ed è ormai stato ampiamente dimostrato che fare sport o meditazione abbassi questi livelli di stress nonché dello stato psicofisico annesso ad essi. Sia chiaro però che quest'ultimo consiglio è al gradino gerarchico più basso rispetto agli altri dato che basterà che i miei livelli di ansia si rialzino per vedere riproiettati i miei pensieri ricorrenti punto e a capo. Mentre è solo razionalizzando, approfondendo e accettando ciò che abbiamo dentro che possiamo archiviarlo come esperienza e andare davvero oltre. Questo a volte è possibile farlo da soli e a volte no e questo non significa essere più deboli. Anzi è proprio per questo che esistono gli psicologi altrimenti che ci stiamo facendo qua a perdere tempo a fare video su youtube. Dallo psicologo ad asci non devi trattare gli altri come se sono psicologi perché non lo sono. Ma tralasciando questo siparietto sono contento di chiudere questo mini video corso sperando che sia stato utile a quanta più gente possibile. Ringrazio chi ha speso anche solo un minuto del suo tempo per ringraziarmi per ciò che stessi facendo. Sappiate che voi siete la benzina nel motore della mia motivazione che quando si tratta di social e youtube è quello di una 500 del 68. Scrivimi pure ciò che pensi e le tue considerazioni riguardo questo mini video corso se ne vuoi degli altri di altre tematiche. Noi ci vediamo alla prossima settimana e che la psicologia sia con te.